Cari amici, bentrovati, andiamo a scoprire insieme una vittoria. Eccola qua. Vittoria modello con il sistema C-Griff. È una fisarmonica a bottoni, ha 46 note suonanti e 87 bottoni. Troviamo dalla parte del canto 11 registri, più master, che si può inserire dalla parte destra della tastiera. Quindi sia da qua, dal tasto nero, che dalla parte esterna della tastiera. Ha 120 bassi, 7 registri, questa fisarmonica è a bassi sciolti, con il converto. Quindi sia a bassi sciolti che a bassi tradizionali. Poi dopo andremo anche a sentire. Vediamo insieme le misure. La misura della prima fila è di 34 cm, esternamente 48 cm, una profondità di 19 cm e un'altezza di 40 cm. La fisarmonica pesa 11,5 kg. Vediamo nella parte posteriore, dove troviamo un cuscino di colore rosso, in velluto. La chiusura del mantice in cuoio. Il manale, cuoio esterno, con velluto nella parte interna. Sentiamo il suono dello strumento partendo dal basson. Accordion. Bando neon. Harmonium. Orga. Il master. Il musette. Violin. Obwe. Clarinet. Ed il piccolo. Sentiamo i bassi partendo dal superiore. Questo è il converter, con i bassi sciolti per quinte. Scendiamo. Bassi tradizionali. Bassi sciolti. Sempre per quinte. E ultimo registro, bassi tradizionali. Bassi tradizionali. Con il basso tradizionale, troviamo l'accordo maggiore, noe, settima dominante, settima diminuita e la fila dei contrabbassi. Bassi.